Buongiorno e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Oggi affronteremo un argomento molto importante, a dimostrazione di ciò che dico sempre, e cioè che il materiale non è, diciamo, la caratteristica primaria per far suonare bene un flauto traverso. In questo momento vediamo un flauto che si chiama AS807, che da caratteristica è un flauto completamente in alpacca. Qua vediamo una versione che ha la testata dorata 18 carati, quindi molto molto bella. Un flauto comunque meccanica fuori linea, sol fuori, misnodato, discendente al sì. E devo dirvi che mi ha veramente sorpreso. Quindi un flauto che per molti di voi direbbero, ah ma non c'è neanche la testata in argento, ma non ha neanche il corpo in argento. Eppure è un flauto artigianale, fatta a mano, con la migliore tecnologia e con il migliore artigianato per uno strumento che suona veramente ad altissimo livello, come tra poco sentirete. Quindi questa è la dimostrazione che non è il materiale che fa suonare bene il flauto, ma è come è costruito lo strumento. Quindi con grande precisione, meccanica bellissima sotto le dita, tamponatura perfetta e suono veramente da urlo. Sentiamo. E' come è costruito lo strumento. 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 dei vari pezzi diversamente dal solito per farvi codere varie sfumature nelle varie tipologie di brani che ho eseguito però è uno strumento veramente bello una pasta di suono bella grossa però molto definita molto colorita e quindi uno strumento che nessuno potrebbe dire suonando questo strumento che mi trovo di fronte a un flauto in alpaca ecco questo voglio dire è un flauto che sembra un flauto d'argento professionale uno strumento che nulla che ha invidiare con flauti iper costosi quindi io vi invito proprio per venire a constatare di persona che questo strumento vi potremmo dire un flauto tutto in argento contestata d'oro 18 carati e tranquillamente uno ci può credere perché lo strumento suona ad altissimo ripeto ad altissimo livello io vi ricordo modello as 807 contestata dorata 18 carati uno strumento completamente artigianale fuori aperti sol fuori discendenza al si uno strumento della casa altus il bellissimo marchio giapponese di altissimo artigianato io vi ringrazio di avermi ascoltato vi invito a venire in negozio a provare questo strumento non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale youtube e vi aspetto poi al negozio ciao 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 ciao